Presidente, oggi qui a Ortona per incontrare i lavoratori della Iocama, domani verrà discussa questa vertenza al Mise, una vertenza complicata. Domani la Regione sarà al tavolo del Ministero, come lo è oggi per la Betafence di Tortoredo, come lo è sempre per ogni crisi industriale, a difendere questi lavoratori, questa impresa e a difendere soprattutto il diritto di mantenere qui questa produzione, di non far uscire le macchine come ci chiedono gli stessi lavoratori, per difendere il futuro e la possibilità di continuare a sviluppare questa industria su questo territorio. 84 lavoratori che rischiano di perdere questo posto di lavoro, con la multinazionale giapponese che sta chiudendo tutte le fabbriche fuori dal Giappone. Il problema vero delle multinazionali giapponesi è proprio questo, c'è una tendenza diffusa, non riguarda solo Iocohama, ma un po' tutto il sistema produttivo nipponico, di abbandonare l'Europa, in particolare l'Europa occidentale, e concentrare le produzioni altrove. E questo è un tema serio, molto importante, che ci preoccupa, anche perché ci sono altri insediamenti importanti giapponesi qui in Abruzzo e in Italia, quindi dobbiamo affrontare complessivamente il tema. Il Ministero dello Sviluppo Economico, il Governo, devono mettere in campo anche delle strategie a più ampio respiro per difendere gli insediamenti produttivi nazionali e affrontare anche questo tema nei confronti del Giappone. Con l'assessore domani si vedrà se ci sono le possibilità di trovare un acquirente per questa azienda a questo punto? Noi abbiamo già tramite l'assessorato trasmesso al Ministero una manifestazione di interesse, ho sentito il Ministero sia nella persona del Ministro che del sottosegretario Todd, che è delegato a seguire queste crisi industriali e questa in particolare. Anche da loro, anche da Todd in particolare, c'è stata un'apertura rispetto a questa possibilità che sta sondando sul mercato. Noi speriamo e lavoriamo perché questa prospettiva, questa ipotesi si concretizzi e prenda corpo, sperando che la Yokohama non voglia invece puntare, come spesso fanno queste realtà, alla desertificazione e alla distruzione di una competenza, per evitare di avere domani un concorrente sullo stesso segmento di mercato.